Andiamo avanti, mi dice una cosa, ma io un po' con la vedo, ma mi dicono che l'han vista in Lamborghini a giro per i pizza, eccetera, ma ha cambiato gusto, prima era una personacchina un po' più... E il bello è che c'è anche gente che ci crede. No, io, eh. No, lei... Me l'ha detto. Io non so se lei ce l'ha a quel video, ma è pazzesco. No, io ce l'ho. Praticamente una delle tante bufale che mi riguarda è che io avrei preso una Lamborghini e, ma è girato, eh, milioni e milioni di visualizzazioni su Facebook, non so se qualcuno ha visto. E qui c'è questa immagine, questa è l'immagine, io sono qui a... ma questo non è il video, quello, il video sì, non so se è questo qui o no, e sono qui a Sant'Agata Bolognese, è il quartier generale della Lamborghini, perché si era appena firmato un accordo dove avevano messo un miliardo di euro e circa 700 posti di lavoro. Cosa hanno fatto questi? Hanno preso questa immagine e hanno detto, con un video falso che gira, non è questo qui, è il video falso che gira, con scritto guardate Renzi, è andato a Ibiza, è andato a Ibiza, è andato a Ibiza con i nostri soldi e con la Lamborghini, ma io ero andato lì per prendere dei posti di lavoro a Sant'Agata Bolognese. Cioè, siccome ha detto una bugia, gliela voglio regalargli una Lamborghini, è un signor.